Era un mezzo mago. Così ce lo siamo portato con noi. Tutta quella bellezza, i vasi, l'oro. Tutto è lasciato lì per un mondo che non si sapeva neanche se c'era. Il mondo delle anime. Cerco la signora Flora. Ma le avevo detto che sarebbe tornata. Guarda, guarda chi c'è. È l'altro mio unico amico. Mangia. She wants to hear what we say. Se vuoi posso farti un corso accelerato in italiano. Vederemo d'occhio. Shhh. Incantesimo. Estimable value. But that's what we're here for. Estimate the... New La Chimera trailer unveiled by Neon. Neon has released a brand new trailer for La Chimera, a romantic drama set in the past. The movie will hit theaters on Friday, March 29, 2024. The story is about people chasing after their dreams, called Chimera. For a group of thieves searching for ancient treasures, Chimera means redemption and easy riches. For Arthur, it's finding the woman he loves, Beniamina. He embarks on an adventurous journey, searching everywhere, even into the afterlife. La Chimera is directed and written by Alice Rohrwitcher. It stars Josh O'Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato, Alba Rohrwitcher, Isabella Rossellini, Lou Roy-La Colonnaie, and more. Neon is distributing the film in North America, and it was produced by Carlo Cresto Dina. Get ready for an exciting adventure filled with love and mystery in La Chimera.